Ben ritrovati a tutti da Edoardo Ferrara di Trebimeteo. Dopo che l'alta pressione africana ci ha regalato un weekend dal sapore quasi estivo, le condizioni meteoclimatiche sono destinate nettamente a cambiare con la nuova settimana. Già nella giornata di lunedì avremo le prime avvisaglie di questo cambiamento. L'alta pressione infatti tenderà gradualmente ad indebolirsi ritirandosi via via sempre verso sud, ma sarà comunque ancora in grado di regalare una bella giornata di sole sulle regioni centro-meridionali con temperature abbondantemente sopra le medie del periodo. Al nord invece avremo un graduale aumento della nuvolosità un po' su tutti i settori per il richiamo di aria più umida dai quadranti occidentali che precede l'ingresso di un fronte freddo in avvicinamento dal nord Europa. E dentro fine giornata non escludiamo anche qualche occasionale piovasco, ma sarà per l'appunto tra martedì e mercoledì che il peggioramento si concretizzerà dapprima al nord con rovesce temporali anche di forte intensità, in particolare sui settori di nord-est appunto raggiunti dalla parte più attiva di questo fronte freddo in discesa per l'appunto dal nord Europa. Ma tra martedì e soprattutto nella giornata di mercoledì il peggioramento si estenderà progressivamente anche alle regioni centro-meridionali interessando comunque soprattutto il versante adriatico. Anche in tal frangente dovremo avere fenomeni localmente di forte intensità con qualche grandinata non esclusa. Il tutto accompagnato da un sensibile calo delle temperature a partire dalle Alpi orientali dove tornerà a nevicarsi in sotto i 2000 metri, ma qualche fiocco di neve fino alle quattro e medie non lo escludiamo anche sull'appennino settentrionale entro la giornata di mercoledì. Bene, per adesso concluso e per tutti gli ulteriori aggiornamenti vi ricordo di andare sul sito terbimetro.com oppure di scaricare anche la nostra app gratuita per tablet e smartphone. Grazie! Grazie!